Ecco i 5 giocatori da seguire in queste finali nazionali Under-17 Samuele Miccoli dell'Olimpia Milano, il numero 2 nel ranking 2006 ha maturato tantissime esperienze anche con la prima squadra ed è pronta ad aiutare i suoi compagni verso le fasi finali del torneo Tommaso d'Arcangeli della Stella Azzurra Roma, il numero 5 del ranking 2006 ha dimostrato alla 9 più capo di poter guidare la sua squadra sul gradino più alto del podio Piccarol, assist e visione di gioco per lui, pronto nuovamente a giocare le partite che contano Michael Perez di Orange One Bassano, il numero 1 nel ranking 2007 ha talento e fisico da vendere Bassano si vorrà riprendere la rivincita della 9 più cap su Stella Azzurra e Perez sarà sicuramente il trascinatore Pietro Iannuzzi della Reier Venezia, protagonista della nazionale Under-16 e diciannovesimo nel ranking 2006 Pietro proverà a condurre Venezia verso le fasi calde del torneo a suon di bombe da dietro l'arco Stefano Sacoccia del Napoli Basket, leader emotivo ed offensivo della squadra Il numero 7 nel ranking 2006 ha far gasare ed emozionare a suoni saccocciati Sarà lui a trascinarli verso un posto che conta Funcione dell'edito 거 Magna 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 Grazie a tutti.